Ehi ciurma, prima di iniziare con il video voglio lanciarvi una sfida In questo momento siamo a questi supportatori E da adesso in poi ad ogni prossimo video vi aggiornerò appunto su quanti supportatori siamo arrivati Ogni 10.000 supportatori farò qualche sfida che voi mi lanciate qua sotto nei commenti E quindi al momento l'obiettivo da raggiungere sono i 130.000 supportatori Beh, hai 130.000 supportatori Ho deciso che finalmente farò il primo video insieme a mia mamma Dove si vedrà appunto lei, la sua faccia e lei farà la sua prima partita su Fortnite Ci sarà veramente da ridere raga, io vi ricordo quindi mi raccomando Supporta un creatore nel negozio oggetti, codice cap Fatelo inserire ovviamente a tutti i vostri amici E mi raccomando, scrivetemi qualche altra sfida qua sotto nei commenti Detto questo, let's go con il video Oggi raga siamo insieme ad Esamu Finalmente, anzi, perché ogni volta lo porto sul canale? Non riesco a capire È brutto, fa schifo a Fortnite, è scarso, è ridicolo Non ha nemmeno tanti iscritti, perché lo porto sul canale? Vediamo, vediamo chi vince Va bene, vedremo chi vince raga, perché oggi siamo in una sfida uno contro uno Detran da 10.000 V-Bucks di premio Quindi chi vincerà si aspetta 10.000 V-Bucks Samu, sei pronto a sganciare? Sei pronto a sganciare? Sono bello caldo È bello caldo per sganciare i soldi Io raga, come al solito vi ricordo, prima di iniziare, di inserire all'interno del codice supporto al creatore Il codice cap, appunto All'interno del codice supporto al creatore, codice cap Vabbè, il codice cap al ritorno del supporto al creatore Come al solito vi ricordo, mi raccomando, di seguirmi su Instagram Mi chiamo GapnoBenzeroOfficio Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Premendo appunto il tasto iscriviti e andando sul canale in descrizione Che è il mio secondo canale in cui facciamo un botto di live insieme E ovviamente raga, mi raccomando Ultima cosa, ma non la meno importante Un bel like se questa mappa vi piace raga E soprattutto un bel like per il ritorno dei Samu Mi raccomando 20.000, anzi 25.000 se volete il ritorno di questo cappelluto in video Detto questo, Sam, abbiamo 20 minuti per completare la mappa A 50 livelli Il percorso è completamente uguale Anche se io partirò da destra Non ti dico il motivo Non ti dico il motivo Secondo te, se là c'è una curva Perché io partirò da destra Chi lo saprà mai No, c'è una curva là in fondo Quindi chi è a destra è avvantaggiato Vabbè, vai tranquillo che vinco comunque Sì, sì, tranquillo Ma certo Va a finire che andrà a finire tipo 53 però Andiamo avanti Samu sei pronto? 3, 2, 1 Appena ti dico via Possiamo premere appunto il timer 20 minuti abbiamo per completare 50 livelli Raga A me non mi bastano 5 L'ha detta L'ha detta Ok Samu sei pronto? Allora 19 minuti e 59 3, 2, 1 Che è la sfidabilizia Let's go, let's go, let's go Allora livello 1, livello 2 Ma non l'ho fatto partire al tempo? Come non l'ho fatto partire? Fidati che l'ho fatto partire Sì, sono andato sopra Ah, volevo trollarmi Volevo trollarmi Oh Fai schifo Raga Finora No No, 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 no Stavo dicendo Finora è molto facile Ma non è vero Ok 7 Oh mio Dio 8 Raga Mi sta superando Ma senti quello lì che non parla Non dice niente Sono concentrato Solo perché mi vuoi superare Raga, 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 raga Calma, ok 10 No Cioè, ma a che livello sei? Morto A che livello eri? Eh, non lo so Adesso te lo dico Ma come non lo sai Adesso me lo dici Sono al 13 Cosa? Ok, anche io sono al 13 Sono rimorto Non ci credo Ti ho superato Non ci credo Non ci credo Questo qui Easy Easy Easy, let's go Livello 15 Ciao, Zavu Perché adesso l'ho preso Oh E va bene Dai, ma meno girato Per vedere le trappole Che cavolo E non mi killa Ma che livello è? Che livello è? Che livello è? Ah, qua qualcuno sta guadagnando un po' di tempo Qua qualcuno dovrà pagare tanti baby bucks No Ok, forse, forse, forse Sarò io Quindi non devo cantare vittoria, raga Allora Il livello 15 è bello difficile Torri morto Ma non ce la faccio a questo livello Ok, no, non è vero È facilissimo Sam, Sam, Sam Sono al 16 Sono al 16 Che è vero Oddio, ma come fa a essere così facile? Guarda la bouncer che c'è dietro di te, Genio La Su è la bouncer che c'è dietro di me? Ciao Non ci credo No Ciao No, Sam, non ci credo Dove è la bouncer? Eh, mannaggia me Livello 20, livello 20, livello 20 Eh, livello 20 No No, eh, Sam Ma questo qui è difficilissimo No Dei farlo di fila, bro Per forza Oh No, vabbè Oh Ciao, Sam Ciao, Sam Allora Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti Oh, mio Dio, raga Sera facile questo È qua? È qua? È qua? Oh, mio Dio Ma che cavolo faccio? No, no, no Ma come si fa? Io mi sono buttato sulla trappola Ok Forse ho capito No Oh, no, no, no Non ho capito proprio una mazza Lascia perdere Sì, io sì Ho capito Come hai fatto? Devi andare sulla finestra? Eh, esatto, lo sapevo Allora, vado sulla finestra Come hai fatto? No, Sam Serio Come hai fatto? Samu Soltare sul laterale Soltare sul laterale? Sul laterale Nella parte bassa della finestra Poi vai verso l'alto E salti ancora Nella parte bassa della finestra? Sì, lì In che senso? E come faccio? Dove sei la finestra? Qui? No Salti sul Sul triangolo Samu Oh, no Quante ne so Ne so troppe Ne so troppe Mannaggia Fermate un attimo Mi fermo Mi fermo Sono qui Immobile Ho un cappello in bocca, bro Sam, sto livello Se non lo fai al primo colpo Ti bando Io te lo dico Te lo dico Se hai rischio male Ok Ok Ora qua Dove cavolo si va? Ok Questa direzione Non ci posso credere Anche te Sì Nettamente morto Ma anche io Guarda, ho fatto una fine bruttissima No, sei sponata qua Mannaggia Sam, allora Te che tastierai? Sentiamo Eh, della color master Oh, cacchio Anche io Non posso Non posso usare scuite Eh, malaggo Eh, no Eh, no Eh, non mi va più bene Eh, no Eh, Sam Sto pingando 35.000 Eccolo Eh, no Eh, no Eh, allora Così non mi va proprio più bene Qua Oh, mio Dio No, regà Te, Sam, a che livello sei? Sam? 27 Cosa? Cosa? Come 27? Non ci posso credere No, regà Riproviamo Riproviamo Oh, yes, bro Ok, livello 26 Devo andare di qua Ok Ok Perfetto 27 No, regà No, regà È il panico sto livello Te, Samu, hai fatto? Sì, sì Al primo tentativo Il 27 Al primo tentativo? Sì Oh, aspetta Oh, yes, bro Ma è una cavolata Non è vero Non è il panico No, regà Questo qui è figo Eh, ma che cacchio devo fare? Ah, ho capito Ho capito Ho capito Devo saltarci sopra? No, vabbè No, vabbè È una figata sta cosa Samu, te che livello sei? 29 Cosa? Oh, mio Dio Regà È una figata sta roba Ciao, Samu È più difficile Il 29, dici? Oddio Stavo per riuscire fuori dalla mappa Sì Aspetta Ho capito Easy Let's go Allora Ora Io prendo la granatina Vado qua Ma non puoi dargli Ma no Ma è una fregatura questa Eh, vabbè Bella, Samu Allora, aspetta Devo far così Let's go Ma Ah, regà Ho capito Oh, yes, bro Oh, yes, bro No, 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 no Come hai fatto a arrivarti lì? Oh, mio Dio Perché sono troppo forte, Samu Sono troppo forte No Come ho detto sono morto Chissà perché Comunque ci alterniamo sempre Siamo una volta No, dai Non ci credo No, regà Ah, non ci posso credere Sai qual è il bello? Oh, oh, maria Sai qual è il bello? Che siamo a livello 32 Io sono al 34 Parla per te Vabbè, io sono al 31, eh? Cosa? Come 34? Il 32 era inesistente Regà, intanto Questo qui è il livello più figo di sempre Questo qui con le Tipo gomme infilate nel muro È il livello più figo di sempre Sì, sì, è bello Come fai ad arrivare sulla cosa che Sulla, sulla bus? Ah, saltando Il problema è quello dopo, Samu Non è il 34, te lo assicuro io Eh, ok Quello dopo è più difficile del 34? Sì, decisamente Ok, ok Qua, perfetto Poi qua scendo Ribecco questo Voilà Comunque Oh mio Dio Oh mio Dio, raga Per miracolo l'ho preso, eh? Questo Questo, raga, è veramente difficile Ecco, hai capito Questo, raga, è veramente difficile Questo qua, raga Oh mio Dio L'ho fatto il primo tentativo, Samu Ma stai scherzando? Non ti giuro L'ho fatto il primo tentativo Non so cosa dirti Come hai fatto a fare il primo tentativo? Ah, non lo so Non so cosa dirti L'ho fatto subitissimo Non lasci 10 No! Non l'ho preso per un miracolo Per un miracolo È difficile questo qua, eh? Io ho capito come si risolve Ok, devo aspettarne No, non c'è bisogno Ancora? E vai, ciao Sam No, no Ah, te l'ho detto che avevo capito come si risolve Ma tu sei te quello stupido qua, eh? Come hai fatto? Basta che ti butti all'interno del coso Sono oltre 8 Grazie, grazie, Samu Sam, quello dopo Ti avviso Addio Lascia perdere Oh, non ho retto il calore Oh mio Dio Let's go Prova ad andare su un muretto No, no Non si può andare, sicuro Sono fatta Come hai fatto, Sam? Oh, yes, bro Beh, bastava che partissi molto prima Allora, regà Mostro è 42 Vai così, vai così Anch'io sono morto, no, prima Vai così Let's go Yes, bro Come hai fatto, bro? Eh, magia No, comunque devi partire Devi far finta Che il primo sia tipo un salto Quindi li fai tutti di fila, ovviamente Let's go Let's go Ok Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Let's go Ma com'è? Te l'hai finito l'altro? Da quando? Ok Eh, con il mio aiuto E ora, Sam, dove dobbiamo andare? Sam, ma c'è Io sono morto Ho capito, ma c'è un grossissimo Sono rimorto ancora Non ci credo Non ci credo, regà È sbagliato Non ci credo No, devi andare dove sono andato io Ma è una roba assurda Non lo capirei mai a primo colpo E vabbè, dove sono andato? A Gerusalemme Allora, Sam, non capisco No, è per forza giusto, regà Ho capito, ho visto dove sei diventato È lì sotto, vero? Sotto a livello di prima, giusto? No, no Dov'è? Eh, non te lo dico No, allora adesso me lo devi dire No, Fra, sono tornato indietro Allora ho perso un livello io Che stupido, che stupido, che stupido, regà Si deve andare qua per forza Ma non capisco dove Ah, no, ho capito C'è la barra sopra che luccica No, regà No, regà No, regà Non ci credo, l'ho vista Ma sai cosa? Eh, vabbè, dai Ma allora sei un god Cioè, vattelo dire Mancano cinque livelli, regà Non possiamo arrenderci Ok, easy Ora Qua Vado di qua E ora? Oh mio Dio Oh mio Dio 45 Sam, ti ho chiesto di rispettarmi Però, mannaggia te Ora vado avanti Let's go Ora, let's go Ok, era facile, 45 46 Ok, 46 è un po' più difficile, diciamo Eh, dici davvero? Oh mio Dio Oh mio Dio Ora Ora Guardiamo, guardiamo il campioncino Durururur Daffa Let's go Vai Vai, let's go Ora Di fila Sono troppo forte Andiamo Ora qua Ok, regà Regà, questo livello Questo livello Ok, era molto facile alla fine Livello 48 c'era jump, regà La vedo brutta sta cosa Va bene Va bene Sam, ti propongo una sfida Dimmi Cinquantesimo Mi aspetti, la facciamo entrambi Chi finisce prima si aspetta i V-Bucks Eh, ti dico la verità che l'ho già finito Perché pensavo ci fosse anche il cinquantesimo come livello Non il 49 Perché il 49 è l'ultimo? Il 49 devi far tutto da una run? Quindi il cinquantesimo c'è? Ah, il cinquantesimo Ah, mi sa che c'è anche il cinquantesimo Sì, sì, c'è il cinquantesimo Sam, ma come fai a fare il 59? Ah, non devi saltare nel 49? No, no, ti aspetta il cinquantesimo Vieni Va bene, va bene Let's go So much easy Let's go Sam Dimmi quando ci sei Sei pronto? Eh, ma te l'hai provato? Bevo un gozzo d'acqua Mi riscaldo la gola Al vantaggio di essere arrivato prima, dai Dimmi quando ci sei 3, 2, 1 Vai Sam Vai Sam Vai Sam Fatto al primo Boom Boom E vai Let's go Il campione sono io Indiscusso Il campione è indiscusso Quindi dove sono i miei V-Bucks? Sam, ma ti rendi conto che hai vinto direttamente pochissimo? Eh, vabbè Regà È stata una bella sfida È stata una bella sfida Molto stancante perché sono tipo 40 minuti che registriamo Raga, ho la gola che mi è morta Sam Allora Io con te devo fare un'altra sfida oggi Che dobbiamo registrare questa sera Ed ora la vedranno tra un po' Ok? Facciamo così Ti propongo questa cosa Dimmi solo se a te ti va bene Sentiamo Se io riesco a vincere nell'altra sfida Non ti devo nessun V-Bucks Ma se te vinci nella prossima sfida Ti devo 20.000 V-Bucks 200 euro Direi Diciamo che sono così sicuro nelle mie capacità Che sono pronta ad accettare Sam Potresti non vincere niente? No, no Tranquillo che vinco il doppio io Eh, però regà è un problema Allora Questi 10.000 V-Bucks te le devo dare È ok Però Se alla prossima sfida Vincerò io Te non mi darai V-Bucks Anzi Io non ti darò V-Bucks Che cacchio ho detto Mentre Se vincerai te Ti dovrò 20.000 V-Bucks Sam 20.000 V-Bucks Hai idea di quanti sono? Io accetto Tranquillo che rivinco Guarda L'ho rifatto Regà io non sono sicuro Sono pronto Va bene Sam Sai che cosa ti dico? Accetto Facciamolo Dando questo Ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo Un bel like Questa volta vittoria dei Samu Ma alla prossima ci rifaremo E noi gli dovrò nessun V-Bucks Fidatevi Se perderò la prossima Vi dovrò 20.000 V-Bucks Perciò mi raccomando Non perdetevi il prossimo video Che non so quando uscirà Io vi ricordo Vi raccomando Un bel like se appunto Questo video vi è piaciuto Codice cap Le negozi oggetti Se volete vincere Anche voi In una mappa del genere Mi raccomando Sfinatevi appunto Con i vostri amici Però mi raccomando Usate il codice cap Io vi ricordo Come al solito Di sicurmi su Instagram Mi chiamo Grazie a tutti Officiale iscrivervi al canale Ti va la campanellina Io non ho più la voce Quindi direi Let's go Ciao 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 Ciao